Si è adattata alla luminosità, non ho fatto più prove come potete vedere E i video mi sono piaciuti davvero tanto, anche il framerate sembra molto alto, non ha lag di nessun tipo Andiamo a chiudere il tutto, vi faccio vedere il browser sia da qua Mani un po' sudate, comunque vi assicuro che l'esperienza d'uso è ottima Andiamo sul nostro sito, guardate che lo appoggio Eccolo qua La tastiera è molto comoda, è anche molto grande, forse troppo, però vi faccio vedere subito Abbiamo diverse modalità di scrittura, c'è anche la tastiera divisa in due Se lo teniamo con due mani è molto più comodo La scrittura è abbastanza istantanea e non sono abituato con questa tastiera Poi abbiamo anche la scrittura con il riconoscimento Io ho comprato una pennina touch Non è una delle migliori, difatti se devo essere sincero fa un poco schifo Magari lo faccio col dito Andiamo se l'ha preso Ecco, per esempio, questa volta non ce l'ha preso Allora che cosa dobbiamo fare? Ci sono delle gesture, come vedete da qua La correzione Adesso ve le faccio vedere Si seleziona sulla parola e si corregge così C'è anche il suggeritore L'eliminazione basta fare una barra Per esempio a me non piace proprio niente di quello che ho scritto Faccio una barra La divisione si fa semplicemente una riga E l'unione si fa Uno smile Aspettate che riprovo Magari scrivendo un po' meglio Andiamo un po' Vedete, perfetto Punto Com Inserisci Beh, ovviamente noi il sito l'avevamo già aperto Come potete vedere la navigazione web è molto ma molto buona Entriamo anche nelle varie sezioni Stessa esperienza web l'abbiamo anche con Internet Explorer Sulla parte desktop Stesso pinch to zoom Andiamo magari anche sul corriere della sera L'unica cosa un po' scomoda se usate la parte web è che quando dovete scrivere Se cliccate sull'area di testo Non vi compare automaticamente la tastiera ma dovete aprirla voi e chiuderla sempre con questo tastino qua Adesso ripasso la tastiera classica Una volta che avete finito di scrivere La chiudete Adesso vi faccio vedere Anche qua è molto fluido il tutto Non sembra neanche più Internet Explorer Dove sei andato? Cosa ti è successo? Chrome l'abbiamo installato Ma è pressoché inutile su questo tablet perché non è per niente ottimizzato Adesso sta caricando Google Il pinch to zoom non c'è E se vi faccio vedere il corriere Lo scrolling cinetico fa ancora più pena E non lo legge oltretutto in tutte le pagine Vedete È una cosa oscena Quindi Internet Explorer per questo tablet Sulla parte desktop io ho installato Office Che va benissimo Ecco l'unica becca è che non avendo una porta USB Dobbiamo o sincronizzarci col gruppo home di Windows E quindi scaricare i file attraverso la rete Oppure dobbiamo passare dalla micro SD Che abbiamo qua Vi consigliamo di prenderne una abbastanza capiente Dato che abbiamo lo schermo touch su Office Troviamo anche gli strumenti input di pen Adesso vi faccio vedere Potete scrivere anche su Word Evidenziare tranquillamente E il tutto è abbastanza comodo Comunque se dovete scrivere Vi consiglio OneNote Oppure scaricate questa applicazione qua Che si chiama E-Journal Che è gratuita E stavo facendo una prova prima C'è la formula della varianza Un grafico Uno, due, tre Poi qui avete tutte le impostazioni Per la grandezza della penna I colori Potete aggiungere allegati Come immagini, video, eccetera E scriverci sopra Oppure anche scrivere a tastiera Qui in alto Vedete che si scrive Ecco, poi vi faccio vedere Un'altra cosa fenomenale Che è il vero multitasking Come vedete Adesso apro un po' di roba Perché non avevo aperto niente Apro questo Internet Explorer qua Apro la calcolatrice Vedete che continua a essere Comunque molto fluido E poi l'applicazione dell'ATM Allora, il multifinestra è comodissimo Allora, se fate così Passate da un'applicazione all'altra Senza problemi Se invece Ovviamente solo con le applicazioni compatibili Tipo questa Quella dell'ATM non lo è Come abbiamo appena visto Potete adattare l'immagine Per esempio Qui a sinistra avete la calcolatrice E qui potete navigare in Internet Tranquillamente Oppure Vediamo cos'altro avevo aperto Niente Apriamo magari Internet E vi faccio vedere anche un video Così vi faccio vedere Come riproduce i video Youtube è qua Cerchiamo la nostra solita canzone B.O.B. so good Intanto la navigazione Anche durante il caricamento È molto buona Alziamo il volume Intanto vi faccio sentire anche l'audio Ingrandiamo E adesso facciamo una cosa La mettiamo qua E mentre guardiamo il video Magari non vi succederà spesso Anzi Non vi succederà praticamente mai Però Mentre magari guardate un video Non so State guardando un video In inglese E dovete prendere appunti Aprite office Ovviamente intanto qua Va tutto perfettamente E qua scrivete Come vedete Non ha lag di alcun tipo E qui stiamo eseguendo Un video In full HD Per essere un processore Atom È una cosa Davvero spettacolare L'audio come avete sentito Non è il punto forte Di questo tablet Anzi Non mi è piaciuto Proprio per niente Adesso chiudiamo Un po' di applicazioni Non c'è più niente Di aperto No E che altro Vi posso far vedere Allora se comprate questo tablet C'è anche un'applicazione Per i programmatori Per i codici Allora se comprate questo tablet Per Diciamo Avere Una piattaforma Windows Completa Anche in mobilità Molto veloce Anche perché Va detto Ve lo consiglio vivamente Se invece Volete comprare un tablet Per Giochi O svago Eccetera Non mi sento Di consigliarvelo Al 100% Perché Il market Non è ancora Pieno Di queste applicazioni Ludiche E ci sono soluzioni Android Diciamo Anche A costo Più basso Comunque Se Vi serve di più Per lavoro Studio E Vi interessa avere In mobilità Applicazioni X86 Quindi Le .xe Per capirci meglio Anche in mobilità Questo è il tablet Che fa per voi Adesso per esempio Vi faccio vedere Come girano i giochi Questo qua è abbastanza Pesantuccio Vi dico già Che sono negato In questo gioco L'ho provato ieri sera Ho schiacciato Per sbaglio Facciamo la carriera Andiamo qua Ok A questo gioco Va Anche abbastanza Veloce Vedete che sono Una grandissima Pippa In questo gioco Questo va Abbastanza veloce Se invece Perché non è In HD Se andiamo invece A eseguire Un gioco Come Where is my water Che è stato fatto In HD Vi faccio vedere Che cosa succede Il menu È abbastanza Veloce Ma poi Quando andiamo All'interno Vedete Già la risoluzione Non è Perfettamente Compatibile Perché è troppo Risoluto il gioco Andiamo qua Primo livello Vedete Già anche Questi Bug Grafici Diciamo che L'aspetto Più critico Di questo Tablet È Appunto La grafica Il gioco Ha un po' Di lag Non so se Riuscite A vederlo Comunque Non è Non risponde Subito Vedete Arriva un po' In ritardo Non è il massimo Non fa neanche Così tanto schifo Però Diciamo che Non è il massimo Si può avere Un'esperienza D'uso migliore Anche su altre Piattaforme E poi Per qualche Secondo Perché L'applicazione Non viene Terminata Subito Ci mette Qualche Secondo Adesso Vi so dire Quando Viene Terminata Realmente Ecco Per esempio Adesso È stata Terminata Per qualche Secondo Quando uscite O anche Se la Mettete In Background Avrete Dei rallentamenti Sul sistema Una volta Una volta che La chiudete No Questa cosa Non succede Per le altre Applicazioni Che non sono In full HD Come Caderoop Eccetera Direi che Per questo Tablet È tutto Mi è piaciuto Davvero Molto Non trovavo Significato Fino a qualche Tempo fa Per i Tablet Aspettavo Proprio Questo Adesso Il tablet Secondo me Ha un significato E vi consiglio Di comprarlo Certamente Correte alla Saturn A Media World Fino Al 7 Di questo Mese E fateci Un bel Pensierino Un saluto Da Lorenzo Terzi